Buonasera, buonasera a tutti voi, bentrovati alla redazione di Videostar per un nuovo appuntamento con l'informazione di Star News in questo mercoledì 25 di ottobre. Apriamo purtroppo con l'ennesima notizia che riguarda le strade del territorio e quindi incidenti stradali. Un incidente si è verificato la notte scorsa lungo la strada statale 284 in territorio di Biancavilla, ferito per fortuna in maniera non grave un giovane di Adrano. Ma sentiamo. Paura la scorsa notte sulla strada statale 284 in territorio di Biancavilla per un incidente stradale che ha visto ribaltare una macchina. Il bilancio per fortuna è di un ferito non grave. Si tratta di un giovane di Adrano che era alla guida di una Peugeot 207 che per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo e dopo aver urtato contro il muretto laterale in gemento e successivamente contro una Fiat Punto è cappottato finendo con le ruote in aria. Sul posto è intervenuta, dopo essere stata allertata, un'ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha soccorso e trasportato il malcapitato al pronto soccorso per le cure del caso. Per fortuna, come detto, ha riportato solo qualche graffio e qualche abrasione. Nulla di grave per lui, illeso il conducente della Punto. Ad intervenire sul posto dell'incidente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano per la messa in sicurezza dei due mezzi incidentati, la polizia stradale di Catania per i rilievi e i carabinieri della compagnia di Paternò per la viabilità. Il tratto di strada della statale è rimasto chiuso al transito sino alle ore 2 della notte. Presentato questa mattina a Paternò un progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L'iniziativa promossa dall'associazione Tamaia vede il coinvolgimento di diversi partner istituzionali e verrà svolta in diversi comuni del Catanese, tra cui per l'appunto i comuni di Paternò e di Adrano. 20 a favore delle donne, percorsi di libertà per donne che subiscono violenza. Il progetto ideato è coordinato dall'associazione Tamaia Ollus grazie al sostegno di fondazione con il Sud. Il progetto è stato presentato questa mattina a Paternò all'interno della sede del Comune in Piazza della Regione. Presenti il sindaco Nino Naso, gli assessori Patrizia Vigilito, Giovanni Battista Caruso e Salvo Comisi, la presidente dell'associazione Tamaia, Anna Agosta, i rappresentanti di alcuni partners del progetto, nonché le mamme Coraggio, Vera Squadrito e Giovanna Zinzo. L'obiettivo del progetto è quello di contrastare la violenza maschile sulle donne con un approccio sistemico, intervenendo con azioni mirate su più fronti. Le attività vengono realizzate a Catania e in altri quattro comuni, Adrano, Mister Bianco, Motta, Sant'Anastase e per l'appunto Paternò. Un progetto che vede la partecipazione dei partner istituzionali e privati, ben sedici, che affiangono l'associazione Tamaia in questa iniziativa. Oltre ai cinque comuni etnei appena menzionati, partecipano il comprensivo San Giorgio di Catania, il primo ciclo didattico Sante Giuffrida di Adrano, l'istituto comprensivo Marconi di Paternò e l'associazione Play School Mister Bianco, ed ancora l'azienda ospedalea policlinico di Catania, il centro Astali del capologo etnei UICI di Catania, l'Ordine dei giornalisti di Sicilia, la Conf Cooperativa Sicilia, l'Acri Service Catania e l'associazione Aibla Mayor. I dati che arrivano al centro antiviolenza sono circa 259 donne all'anno, da questo territorio ne arrivano di solito circa 30-40. Perché abbiamo deciso di riaprire lo sportello qui e trovare i fondi per rifinanziarlo? Perché molte donne hanno difficoltà a venire a Catania, quindi ci sembrava strategico e utile per loro supportarle anche con uno sportello fisico qua. Ricordiamo il numero di telefono, è quello dell'associazione 095 72 23 990, le donne possono chiamare dall'unedì al venerdì, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e martedì e giovedì dalle 13.30 alle 18.30. Quindi grazie a questo progetto abbiamo avuto anche un forte potenziamento delle ore di accoglienza telefonica, anche attività di formazione per gli operatori e le operatrici, verranno coinvolti anche operatori e operatrici di questo territorio, dell'ambito sociale, dell'ambito sanitario, dell'ambito delle forze dell'Ordine, attività di prevenzione con una scuola di questo territorio. Insomma un progetto a 360 gradi che intende contrastare la violenza moschile sulle donne con un approccio sistemico. Malgrado l'attenzione, magari fare accesi su questo fenomeno in tutta Italia continua, ma noi non ci possiamo fermare, siamo messi dentro 5-6 comuni insieme alle scuole, insieme alle istituzioni sorrastanti, la prefettura, tutti insieme per combattere questo fenomeno. E' stata una delle cose che ho fatto insieme all'amministrazione comunale quando mi sono insediato nel lontano 2017, ma continuiamo adesso con questo progetto ancora più importante, ancora più inclusivo. Dicevo prima le scuole, ma anche un'attenzione e un contributo particolare verrà dato a donne con disabilità. E quindi significa che il riferimento diventa ancora più certo, la rete si completa, c'è un'attenzione massima. Sappiamo cosa significa subire violenza, crescere un figlio, una propria figlia e poi vedersela tolta in quel modo. Avvicinare una donna vittima di violenza è molto difficile, nella mia esperienza è molto difficile, sicuramente empatia, non giudicare le donne che vengono a raccontare un vissuto terribile che è molto difficile anche ammetterlo di viverlo. Quindi molta empatia sicuramente per approcciare una donna e portarla piano piano alla rinascita. Chiaro che non è semplice, però abbiamo sempre la speranza, abbiamo tanti strumenti, li dobbiamo utilizzare, li dobbiamo utilizzare bene, nella speranza che lo Stato comprenda che la violenza sulle donne non è solo volontariato, ma è anche denaro che devono investire affinché ci possano essere corsi di formazione, affinché chi opera nel settore possa avere il giusto contributo per supportare nel modo migliore una donna. Cercare di sensibilizzare i giovani, la nuova generazione, sensibilizzare anche i più vecchi, affinché fargli capire che la violenza non è l'unica via di uscita, ci sono tanti altri metodi per uscire dalla violenza. Bisogna pensare sempre che basta chiedere aiuto, ecco, non avere il timore di chiedere aiuto. Un uomo che ha qualche problema, qualsiasi problema sia, e non riesce ad affrontarlo se non con la violenza, deve chiedere aiuto, deve avere il coraggio di chiedere aiuto. Laura, nelle scorse settimane avete realizzato il sogno di Laura. Abbiamo iniziato a portare avanti il sogno di Laura, che è quello di aiutare i tanti volontari che ci sono e che si prendono cura di animali abbandonati. Piano piano stiamo andando avanti, con calma. Io mi sono presa un bel po' di tempo, sono passati nove anni, però per me ancora è oggi. Quindi abbiamo tantissimo tempo. L'importante è non fermarsi, perché il fermarsi ti porta a noi, che siamo le mamme, ci porta alla follia. Non poter parlare più delle nostre bambine, non poter fare per loro, penso che ci porterebbe un po' fuori di testa. Invece questo, tenerci attivo, è perfetto. Al cimitero di Ragalna è stato ripristinato l'impianto elettrico. I gnoti, latri, lo scorso 9 agosto, avevano trafugato centinaia di cavi, danneggiando i quadri elettrici presenti all'interno del Camposanto, lasciandolo di fatto completamente al buio. Adesso, così come comunica il comune, tutto è tornato alla normalità. E luce fu, nel cimitero di Ragalna, l'elettricità è tornata ad essere funzionante dopo il furto di centinaia di cavi elettrici avvenuto per mano di gnoti la notte dello scorso 9 agosto. Il Camposanto, per via di questa azione meschina, era rimasto completamente al buio. I ladri, oltre ad asportare centinaia e centinaia di cavi, avevano danneggiato centraline e quadri elettrici, causando così un danno non indifferente. I dipendenti dell'ufficio manutenzione del comune di Ragalna, la mattina del 10 agosto, hanno effettuato il sopralluogo per la constatazione dei danni arrecati, avviando subito tutte le procedure atte al ripristino dell'elettricità. A dare notizia dell'avvenuto ripristino è stato il comune precisando che è stato anche realizzato un importante impianto di videosorveglianza per evitare il ripetersi di gesti vili come questi, che non mostrano completamente rispetto verso i cari defunti. Il comune informa, inoltre, i cittadini, che sino a giorno 3 novembre presso il cimitero sarà aperto l'ufficio segnalazioni e informazioni per tutte le esigenze degli utenti. Inoltre, anche nelle giornate di 1 e 2 novembre, dalle 9 alle 13, sarà attivo il servizio ripristino lampade votive. Il Campo Santo in questi giorni è stato anche oggetto di pulizia straordinaria. Gli interventi sono stati seguiti e coordinati dall'assessore ai servizi cimiteriali Andrea Corsaro con la collaborazione dell'assessore al verde pubblico Antonino Caliò. Andrea Ingiulla, già candidato alla carica di sindaco a Biancavilla alle scorse elezioni amministrative, interviene con una nota in merito alla sospensione del servizio di assistenza domiciliare per persone disabili a Biancavilla. Chiedo al sindaco Bonanno di conoscere le ragioni per le quali è stato nuovamente sospeso il servizio che peraltro veniva erogato solo per pochissime ore settimanali. Mi chiedo come sia possibile, scrive l'avvocato Ingiulla, che in un comune dove vengono spese centinaia di migliaia di euro per organizzare feste ed iniziative ludiche di ogni tipo non si riescano a trovare i soldi per garantire un servizio essenziale per la cura delle persone che versano in stato di disabilità. La civiltà ed il grado di sviluppo di una società si misurano dalla capacità di sapere garantire l'inclusione e la tutela delle categorie fragili, quali appunto i disabili e gli anziani, non certo dal glamour delle passerelle che si organizzano con grande dispendio delle risorse pubbliche. La nostra parte politica chiede di ripristinare immediatamente il servizio, di garantire i livelli minimi di assistenza ai cittadini che ne hanno estremamente bisogno. Così l'avvocato in giulla. Iniziativa di street art attraverso per l'appunto un intervento di rigenerazione urbana a Paternone e gli alloggi popolari di via Dalmazzi, angolo via Sardegna, al via la realizzazione artistica che andrà ad abbellire non solo la facciata di un edificio, di una struttura popolare per l'appunto, ma anche l'intero quartiere. Vediamo. A Paternone con l'obiettivo di rigenerare alcuni quartieri periferici della città per valorizzarli dal punto di vista estetico, si è fatto ricorso alla street art, seguendo così il trend nazionale. Tutto ciò è in corso nella zona tra via Sardegna e via Dalmazzi, dove singoli cittadini, aziende, imprenditori, su input del consigliere comunale Michele Russo, promotore di questa iniziativa, hanno messo mano ai portafogli, commissionando ad un artista del calibro di Ligama, pittore murale di grande talento, le cui opere si trovano in Sicilia, ma anche in altre parti d'Italia, nonché fuori dai confini nazionali, di raffigurare sulla parte esterna di uno degli alloggi popolari di via Dalmazzi l'opera di Fidia, scultore greco vissuto tra il 490 e il 430 a.C. L'opera di Fidia che è stata riprodotta è l'amazone ferita. Tuttavia, quell'ingosso di realizzazione è stata pazziarmende riadattata a territorio ed è stata intitolata l'amazone normanna. La nostra intenzione è quella di dare continuità a ciò che si sta realizzando e andare prossimamente a ricoprire altre aree del nostro comprensorio. L'opera originale è un'opera di Fidia chiamata l'amazone ferita. In quest'opera è rivista dall'artista Ligama di fama mondiale, molto conosciuto ed evidente a tutti anche molto bravo. Allo stato attuale è sul che sta realizzando l'opera? Assolutamente sì. Ligama è lì che sta realizzando l'opera alle nostre spalle. Ha rivisto il nome di quest'opera che si chiamerà L'amazone normanna. Siamo contenti di quello che si sta realizzando. Negli scorsi giorni è stato evidente anche che l'opera è molto apprezzata. Speriamo di lasciare un fiore per la nostra comunità. Prossimi appuntamenti? Prossimi appuntamenti vi anticipo che sicuramente già si sta lavorando per una prossima opera in altre zone. Non vi svelo nulla ma cercheremo di realizzarla entro l'anno, se no nei primi del prossimo anno. Lunedì 30 ottobre alle 10 nell'auditorium del liceo classico Giovanni Verga di Adrano si svolgerà la cerimonia di consegna da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Mancuso degli attestati di merito per gli studenti che hanno ottenuto la votazione di 100 su 100 all'esame di Stato del 2023. parteciperanno alla cerimonia due ex-alunni del liceo Verga oggi due professionisti affermati Lina Scalisi professore ordinario di storia moderna presso l'Università di Catania e presidente dell'Accademia delle Belle Arti sempre per l'appunto del capoluogo etneo e Massimo Cultraro dirigente archeologo presso il CNR e docente di preistoria archeologia e G all'Università di Palermo. Questa era la nostra ultima notizia noi ci fermiamo qui grazie come sempre per la vostra attenzione e a voi tutti l'augurio di una buona e serena serata.